L'unio ad oggi c'è stata qualche piccola variazione, soprattutto nello stasso operativo della società e poi nella rosa, come sapete dai comunità di stampa che qui arrivano, sono arrivati alcuni giocatori tra cui l'ultimo ci ho comunicato proprio due giorni fa di Nascalti, che comunque non è qui a Roma ma noi contiamo di averlo alla fine da Caricap che abbiamo convocato qui per lanciare la prima campagna abbonamenti da qualche anno a questa parte perché rivenevamo opportuno che fosse un passo successivo a tutte le tematiche che stiamo portando avanti durante le stagioni, questa era l'ultima, per la vita di utilizzare un pubblico che comunque è sempre presente qui a Tre Fontana e in più c'è una variazione quest'anno, abbiamo una nuova maglia abbiamo deciso così insomma di prendere in esame alcune offerte che ci sono arrivate perché riteniamo opportuno che comunque alcuni marchi facciano, non che siano più belli o meno ma comunque abbiano più appeal, è un discorso come il nostro che abbiamo invece andato da lanciare che è una pubblica che con i pericoli hanno trovato i pausi quindi ci sembra opportuno vedere anche le varie opportunità che ci giungono dal mercato passo la parola al direttore generale sto qui proprio perché il Presidente non è venuto quindi mi ha dato un carico di rappresentare la società la cosa importante è questa appunto, la campagna abbonamenti è una campagna abbonamenti che come diceva Mondesi era da tanto che non si effettuava qui abbiamo cercato di venire incontro un po' a tutte le possibilità come vedete se l'avete ricordato in questa brochure con dei prezzi abbordabili a tutti e sono una scontistica per gli associati, gli studenti e tutte le categorie meno con la possibilità di pagare soprattutto questo per quanto riguarda le scuole e tutto il resto il Presidente che vorrebbe Capitolina d'accordo far sì che tutti gli iscritti Rebbi Roma e Capitolina quindi coloro che abbiano la carta di iscrizione i tesserati nelle varie società abbiano libero ingresso a Vicenza quando noi giochiamo in casa anche la Capitolina, i tesserati della Capitolina possono venire qui da noi gratuitamente e così quando la Capitolina giocherà in casa